Saro Musica è con noi, Ciusi Pischetta. Buonasera a tutti, grazie. Siete veramente tantissimi. Buonasera, reggiria e grazie a tutti. Nel silenzio sono benissimo. Il silenzio è un dono universale, Che solo pochi al mondo sanno apprezzare. Forse perché non può essere comprato, E come me non fa l'umore. Canto per chi mi ha tradito e chi mi ha offeso, Perché ha levato alla mia vita un dolce peso. Ora che vedo l'universo e io impazzisco, Guardo il sole, E dove sono adesso? Il tempo non ha età, Sto perdonando questa folle rima mia, Vedo gli amici miei, Che parlano di guerra, di utilità. Un movimento mi trascina ancora via di cuore, Mi indosserò un vestito bianco, Se verrà di nuovo il vento, Senza far rumore, Nel silenzio sarà musica, Che va! Oltre i confini l'anima scintillerà, Per muovire gli uomini che non sanno amare. Perché cambiare significa sapersi dare, Sentirsi bene, E non spaccarsi il cuore, E emozionarsi, E c'è chi muore, E emozionare. Ho bisogno, Ho bisogno, Di sentirmi mia, E dove sono adesso? Il tempo non ha età, Sto perdonando questa folle rima mia, Vedo gli amici miei, Che parlano di guerra, di utilità. Un movimento mi trascina ancora via di cuore, Indosserò un vestito bianco, Se verrà di nuovo il vento, Senza far rumore, Nel silenzio sarà musica, Che va! Oltre i confini l'anima scintillerà, Per muovire gli uomini che non sanno amare. Perché cantare significa sapersi dare, Sentirsi bene, E non spaccarsi il cuore, E emozionarsi, E c'è chi muore, E emozionare. E non spaccarsi il cuore, E emozionarsi, E c'è chi muore, E emozionarsi, E c'è chi muore, E emozionarsi, E c'è chi muore, E emozionarsi, E emozionarsi, E emozionarsi, Il silenzio è un dono universale, Che solo pochi sanno apprezzare, Forse, perché non può essere comprato, E come me, non fa rumore. Bravo! 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 Meritato applauso per la nostra Giussi Pissetta, Permettemi di dirti, bentornata nella nostra isola. Grazie, grazie a voi. Grazie, grazie Giusy. Auguroni e poco al lupo a tutti i partecipanti, a tutti i ragazzi. Che questa sera si sono esibiti, magari qualcuno per la prima volta, non so. Comunque farei veramente un grande applauso perché stare qui non è facile, no? Per chi si esibisce. A volte c'è tanta emozione e questo anche punti scherzi a volte. Quindi io faccio i complimenti e tanti auguroni. Grazie a te, Ricca. Grazie a voi. Grazie a te, maestro. Grazie a tutta la fine. Buon lavoro. Grazie. Ancora una volta Giusy Pisteta. Bene, cari giurate, siamo arrivati all'ultima categoria dei nostri ragazzi in gara. Ma prima ancora di questo io vorrei dare la parola ad una delle nostre giurate, una bellissima voce femminile. Sto parlando della nostra designer, autrice e artista. Grazie a tutti. Grazie a tutti. – Sì. Grazie.